Ci sono state delle statistiche notevoli, per esempio Giorgio Mortara nell'immediato dopo guerra ha scritto questo bel libro sulla salute degli italiani durante e dopo la guerra, la prima guerra mondiale, dove mette in evidenza proprio in termini statistici, in termini percentuali, qual è stata naturalmente l'incidenza della mortalità, qual è stata l'incidenza della morbilità, perché dobbiamo ricordarci che accanto ai feriti in campo bellico ci sono i malati, anzi durante la prima guerra mondiale i malati sono superiori ai feriti, cioè voglio dire questa è una tradizione delle guerre, noi si pensa subito ai feriti, ai mutilati eccetera, no, ci sono anche i malati che perdono la vita per malattia, perché la guerra è una madre di epidemie, anzi si può dire che la guerra stessa è un'epidemia, è un'epidemia artificiale, mentre le epidemie naturali sono quelle dovute a contingenze della natura, le epidemie artificiali sono dovute all'uomo, in fin dei conti nel medioevo fame, peste e guerra erano i tre flagelli che la preghiera dell'uomo medievale cercava di stornare, beh nella prima guerra mondiale che cosa succede? Succede che c'è la guerra, ma succede che c'è una grande carestia che si manifesta sotto alimentazione di grandi strati popolari e c'è un'incidenza delle malattie che è straordinaria, non a caso ci sarà anche una caduta delle difese organiche e arriverà la Spagnola a trovare subito nel 1918, mentre le campane di tutta Italia suonavano a festa per celebrare la fine della guerra all'armistizio di Vittorio Veneto, esplodeva un'epidemia che ha fatto più morti di quanto non ne avesse fatto poc'anzi la guerra, ma non è da pensare che non fosse stata importante la guerra nell'abbattere queste condizioni difensive della popolazione e renderle suscettibili, prima la Spagnola e poi all'encefalite letargica che molti ignorano ma che tenne un controrteo subito dopo la Spagnola amplificando il retaggio di questa e creando un'invalidità permanente da encefalite, ecco voglio dire, questo è in essi fra guerra, malattie, epidemie che va messa in rilievo. La prima guerra mondiale è uno snodo molto importante perché è diversa da prima, si diceva è la prima guerra industriale, quindi dove ci sono ancora dei modi antichi di fare guerra, le trincee, la guerra di posizione e ci sono dei nuovi modi di fare la guerra, la guerra di movimento, la guerra lampo poi nella seconda guerra mondiale, la guerra dove entrano in gioco delle armi che prima non c'erano, il cannone a lunga gittata, l'aeroplano, il carro armato e diventa una guerra navale anche, non soltanto una guerra terrestre, guerra aerea ancora poco ma guerra navale sicuramente perché la prima guerra mondiale noi dobbiamo diciamo la guerra mondiale, per me sono cinque guerre perché c'è la guerra tra Inghilterra e Germania per la supremazia dei mari, c'è la guerra tra Francia e Germania per la supremazia continentale in Europa, c'è la guerra italo-ostriaca per la rivendicazione delle terre irredente eccetera, c'è la guerra russo-tedesca per la supremazia nell'area polacca e nell'area e poi c'è la supremazia fra i due imperi, quello zarista e quello turco per lo sbocco al Mediterraneo, il Mar Nero eccetera, quindi c'è una convergenza di interessi bellici che ci fanno dire che la guerra è una ma in realtà è molteplice e le sue molte facce si riflettono anche nella portologia, nella morbilità, per esempio la totalità dei morti in guerra è stimate intorno ai 10-12 milioni, le statistiche italiane sono un po' sottostimate rispetto a questo intorno ai 9 milioni, ma insomma è una moria di questo tipo, non paragonabile a quella della seconda dove sarà 40-50 milioni, ma voglio dire, ecco questo è già un fatto fondamentale che fa della prima guerra mondiale anche dal punto di vista demografico, quindi dal punto di vista biologico, dal punto di vista clinico, dal punto di vista socio-sanitario un elemento, diciamo così, un qualche cosa di grande rilevanza. Le ferite d'arma da fuoco molto spesso sono ferite destruenti, nel senso che non c'è soltanto come era una volta la lesione d'arma bianca, quella che si dice la ferita, c'è una mortificazione di tessuti, una infezione dei tessuti che subito sopravviene, che molto più di una volta fa sì che queste ferite siano infette e degenerano in gangrena gassosa o in tetano. Succedeva anche nel Cinquecento, nel mestiere delle armi, quel bellissimo film, la morte di Giovanni dalle bande nere non è dovuta tanto alla ferita al ginocchio, quanto all'infezione che costringe il medico, l'ebreo, maestro ebreo Abramo Portaleone, a amputarlo di gamba e poi di venire accusato di averlo ammazzato perché è ebreo, ma questo è un altro discorso. E succede questo, questo è ancora valido in un'epoca in cui non ci sono ancora i sulfamidici, non ci sono ancora gli antibiotici. Che cosa c'è? Ecco, qui ci sono due cose da osservare. Primo, la tempestività dell'intervento, cioè per poter giovare al ferito e per poterlo affrancare dalla possibilità che la sua ferita degeneri, suppuri, diventi una ferita infetta, quindi una setticemia e quindi lo porti a morte, cioè la tempestività dell'intervento. Cioè non bisogna aspettare che la battaglia sia finita per poter intervenire sul campo di battaglia, ma bisogna poter intervenire durante la battaglia. Quindi c'è tutto un problema di assistenza sanitaria rivoluzionata, un tentativo di pronto soccorso che sarà poi quello che darà sostanza all'urgenza, all'emergenza, alla terapia di emergenza di cui oggi noi fruiamo, era già stata abbozzata nelle guerre napoleoniche. Però certamente il grande banco di prova non è stata la guerra franco-prussiana del 1870 che si è conclusa in poco tempo, quanto la prima guerra mondiale. Quindi intervenire tempestivamente era molto importante. Era molto importante il sovrano militare ordine di Malta, la croce rossa italiana, europea, che poteva anche naturalmente grazie a una convenzione poter intervenire anche durante la battaglia, senza essere oggetto di attacco da parte delle forze contrapposte. Ma soprattutto la scoperta di un disinfettante molto semplice, la soluzione di Dacking-Carrell dovuta a un chimico, Dacking e Carrell, un medico che aveva avuto il premio Nobel nel 1912, che è una soluzione disinfettante molto semplice, ipoclorito di sodio più acido borico. Ebbene, con questo lavaggio delle ferite si preveniva la gangrena gassosa e si preveniva il teftano. Ci sono le statistiche al proposito che dimostrano come nel massacro di Verdun ci siano state delle truppe non trattate e delle truppe trattate. Ebbene, la mortalità nelle prime non trattate è elevatissima, nelle seconde trattate è bassissima. Quindi ecco, questo è un elemento che ha potuto dire, guardate, quando la guerra non c'è ma c'è la pace nei confronti dei feriti e degli infortunati sul lavoro, questo tipo di medicazione è utile, il pronto intervento è utile. Non dico che in questo senso la guerra sia stata utile, però certamente ha avuto delle conquiste, delle scoperte che sono state poi trasferite in campo civile molto utili. Nei confronti dei mutilati, che sono decine di migliaia, che sono decine di migliaia, ci sono già dei tentativi di, potremmo dire, di riabilitazione, di reinserimento nella vita civile, di reinserimento nella vita lavorativa, nel ricupero di una funzione sociale. Per esempio ci sono i primi tentativi di arti artificiali. C'è un medico tedesco, Sauerbruch, che proprio durante, dopo la prima guerra mondiale, confessiona questo cosiddetto arto di Sauerbruch, cioè a quelli mutilati di braccio, inserisce questo arto che tra l'altro non è inerte, ma che con un meccanismo particolare che adesso non le so descrivere anche perché non saprei farlo, permette un abbozzo di articolazione delle dita. Tutto questo sarà il frutto della tecnologia dopo la seconda guerra mondiale, però già nella prima si intuisce la possibilità di poter sopperire dal punto di vista meccanico, meramente meccanico, ad alcune piaghe provocate dalla guerra. Beh, è importante non soltanto quelle che sono le malattie fisiche, le ferite, le fratture, ma anche le psicopatie. La guerra è una matrice di disordini mentali, è una matrice proprio di disagio mentale. Ci sono quelli che venivano chiamati gli scemi di guerra, cioè quelli che perdevano praticamente, come si suol dire, la trebisonda e non era soltanto una questione di paura, era una questione proprio di stravolgimento di fronte all'evidenza di quel che succedeva a loro accanto, della loro impreparazione culturale, del loro trapianto improvviso da una civiltà contadina a tutt'altra civiltà che perdono la lume dell'intelletto che poi è il grande campo della decimazione, questi che fuggono e fuggono perché sono impauriti, fuggono perché o perché hanno perso la testa e lì e lì si è stato un macello dovuto proprio alle nostre sfere superiori dell'esercito che hanno fatto gli erbe un fascio, non hanno distinto fra il simulatore e chi invece era uno psicopatico. Dopo la seconda guerra mondiale questo verrà messo molto bene in evidenza per la seconda guerra mondiale da Basaglia, Basaglia farà proprio una riflessione su quelle che sono le psicopatie conseguenti alle guerre che rappresentano una patologia veramente esterminata e anche dopo la prima guerra mondiale c'è stata proprio una incidenza di individui che poi non hanno ricoperato più la salute mentale, l'hanno persa in modo definitivo quindi hanno ingrossato i ranghi della disabilità, della non abilità, della invalidità, della infermità popolando i manicomi e molti di questi cosiddetti appunto dicevamo scemi di guerra che hanno popolato gli ospedali psichiatrici. Ecco nei confronti di questo qui diciamo così la sanità fra le due guerre è stata molto ritardataria, è stata molto ritardataria una presa di coscienza del problema dobbiamo rimandarla dopo la seconda guerra mondiale. Per lungo tempo questo tipo di patologia è stata senza soverche attenzione da parte della medicina, questo bisogna riconoscerlo. Grazie a tutti.